Siamo finito, vengo totale Motocross day, Ottobiano day Anziché fare motocross facciamo cubotta cross Davide Allora, io arrivo con lo stivaletto No, no, no Quindi abbiamo i raccomandati, cazzo Salo febbre Grande Tony Ragazzi, è quasi tutto pronto per la finale Grande Tony Vai Tony Aspi che vorresti cenare? Cioè che vorresti mangiare a cena? Ceci chef che ci... Oddio, ceci chef Che ci prepari? Come un cazzo Oddio ceci chef è un po' sbogliata Guarda Guarda, sembri una... Dai, non dormire Ma cosa fai con gli occhi chiusi? Devi riposare Anche Aspi va a svegliarti, guarda Aspi Dai, e svegliati Anche il navigatore Direzione Autostrada Grande Le mani Ho il mio disco Non so perché mi sono svegliata così in carico questa mattina Buongiorno Buongiorno a tutti Anche il navigatore Direzione Autostrada Grande Vogliamo sistemare questa manina malata Nelle buone mani di Andrea Nella tua mani Che stamattina rilunca comunque Non ho cambiato il nome in Andrea Dittino Monco Quasi a posto Quasi a posto